L'abusivismo a Licata non è certo un tema nuovo. Sono trascorsi 13 anni da quando le ruspe fecero il loro primo ingresso a Licata. Gli abbattimenti furono avviati nel 2002. La lotta all'abusivismo edilizio era fra le priorità dell'allora prefetto di Agrigento Ciro Lomastro che si impegnò a ripristinare la legalità e il decoro sulla fascia costiera avviando le demolizioni a Licata. Dopo aver abbattuto quattro case, le ruspe si fermarono improvvisamente davanti la villa di un consigliere comunale e a quella di Giuseppe Falzone, il capo di Cosa Nostra Grigentina, arrestato nel 2010 a Marsiglia. La repressione si ferma lì. Il prefetto Ciro Lomastro venne trasferito e non mancarono scontri fra le forze dell'ordine e gli abusivi che sino ad oggi hanno potuto continuare ad abitare quelle case. Anche l'estate 2013 a Licata è stata segnata da sequestri di immobili abusivi da parte delle forze dell'ordine. La questione abusivismo edilizio oggi torna più che mai di prepotenti attualità. La linea dell'intransigenza contro attività abusive è stata ormai tracciata in modo chiaro e netto dalla Procura che ha dato l'ordine di demolire gli immobili abusivi ad Agrigento e anche nei comuni di Licata, Palma, di Montechiaro e Realmonte. E oggi, come allora, insorgono i proprietari delle strutture interessate che si sono costituiti in un comitato che chiede a gran voce di fermare le ruspe. Dopo la decisione del sindaco Angelo Cambiano di indire una gara per l'affidamento dei lavori di demolizione delle case abusive, i proprietari si sono mobilitati e hanno incontrato il primo cittadino per manifestare la propria contrarietà. L'amministrazione, dal canto suo, ha già stanziato una somma di 600.000 euro da destinare ai lavori di abbattimento di 12 immobili, quasi tutti rei di trovarsi a meno di 150 metri di distanza dal mare. E le buste per le offerte delle imprese interessate saranno aperte il 30 ottobre prossimo. La situazione più difficile è a Palma di Montechiaro dove si parla di almeno 900 immobili abusivi. Il sindaco Pasquale Amato è riuscito a racimolare appena 10.000 euro, soldi che serviranno per demolire gli abusi costruiti all'interno delle case popolari di proprietà comunale.